La fabbrica era organizzata secondo dei criteri americani che secondo me erano all'avanguardia. Difatti ho notato questa differenza con l'Ansaldo San Giorgio. Dall'America arrivavano specifiche di come si dovevano fare certi interventi, certi lavori, questo modo delle riunioni comune, di lavorare assieme, che secondo me nelle altre fabbriche non c'era ancora in Italia. Anche un'altra cosa interessante è per esempio la gestione dei costi. La manutenzione è un costo grande per una fabbrica, specie una fabbrica chimica. E allora è interessante avere il dettaglio preciso di tutti i costi della manutenzione. Lì con gli americani si riusciva a sapere quanto era il costo di ogni parte della manutenzione, i materiali, la manodopera, le imprese esterne. Nonostante che non ci fossero ancora sistemi computerizzati e veniva fatto tutto a mano da impiegati addetti alla gestione dei costi. La centrale termoelettrica Ferrania è una realtà molto particolare e molto complessa perché era costituita da specialità diverse. Cioè c'era una parte termica che era costituita da tre caldaie di produzione vapore, due da 25 e una da 50 tonnellate ora di vapore. Il vapore veniva fatto passare in una turbina, quindi c'era un settore termoelettrico dove veniva prodotta l'energia elettrica. Il vapore passando in turbina perdeva la diminuire di pressione e veniva poi distribuita alla fabbrica. Questo impianto termoelettrico era un'isola non in parallelo con la rete Enel, ma alimentava parti dello stabilimento dove la rete Enel, l'energia elettrica fornita dalla rete Enel, dava dei problemi con quelle microinterruzioni di cui soffre l'energia elettrica Enel. Lo stabilimento era alimentato da una rete a 130.000 dell'Enel che però aveva queste microinterruzioni. Allora, cosa succede? Questi reparti che erano alimentati dalla rete Ferrania, perché l'energia elettrica autoprodotta si chiamava Ferrania, erano il reparto supporto, il reparto A, era tutta la centrale e erano altri punti delicati dello stabilimento, come gli azionamenti delle macchine di stesa dei reparti H5 e H6. Per cui potete immaginare come una interruzione dell'energia elettrica Ferrania creasse un danno notevole a tutta la fabbrica, perché si fermava completamente la fabbrica. Mentre se ci fosse stata un'interruzione dell'energia elettrica Enel, i reparti, per esempio l'area chimica o altri reparti, si fermavano, ma la centrale che era tutta autoalimentata dall'energia Ferrania, continuava la sua produzione di energie e al ritorno dell'energia Enel la fabbrica poteva ricominciare a lavorare. Quindi la continuità di esercizio in centrale era un assillo non da poco. Non sono passati tanti anni, ma non c'erano ancora i telefonini, per esempio, no? Io, allora, un anno il giorno di Natale sono andato a Pietraligure, dove abitava mia sorella, a fare la festa di Natale. Allora, la centrale era quasi, perché lo stabilimento era fermo, la centrale era lì al minimo, tutto era tranquillo, io vado alla messa alle 11, pieno di gente così in chiesa, mi sento toccare, mi giro, un operaio della centrale, con la tuta. Ho detto, è morto qualche, cosa è successo? Mi ha detto, guardi, venga subito lassù perché c'è un guaio che noi non riusciamo a capire cosa c'è. E allora cosa ho fatto? Sono andato a telefonare da un telefono normale, mi hanno detto che c'era una perdita di vapore sul collettore dell'alta pressione delle turbine, che per ripararla bisognava fermare la centrale. Allora, intanto ho detto, vabbè, la perdita, un'ora o due durerà ancora, dopo il pranzo di Natale, alle due sono partito, sono andato su, chiamato le persone che erano capaci di fare quel lavoro lì, spento le caldaie, commutato tutta la centrale su Energia Enel, per avere la luce e tutti gli altri servizi, fermato le turbine, cominciato a smontare questa flange dove c'era questa perdita, sono venuti ovviamente gli operai di manutenzione della centrale, che erano bravi, erano capaci di fare quel lavoro lì, intanto le ore lì macinavano, è passato il pomeriggio, è passata la notte, e abbiamo sostituito, hanno sostituito questa guarnizione che perdeva, rimesso tutto a posto, riacceso le caldaie, rifatto, ha fatto funzionare la turbina, portata ai giri, chiuso l'interruttore della ferragna, commutato di nuovo tutto sulla ferragna, e nessuno si è accorto di nulla. nei reparti, perché era ferma la fabbrica, io non ho detto niente, né ai miei capi, non mi sono aggiustato tutto da so. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.